Dopo aver disputato una grande partita contro la Seer Safety Conad Perugia, l'attorno Calipo Calabria si prepara a ritornare nel tempio della pallavolo italiana, quella del Palapanini che l'ha vista già protagonista in nove occasioni dal 2004 al 2014. Morale alto e grande entusiasmo nel quartier generale Gelo Rosso dopo la bella prova di domenica scorsa. La squadra di coach Cantor ha mostrato carattere e qualità contro Bira Inco dimostrando di poter competere con ogni avversario. Il prossimo banco di prova è di quelli da far tremare i polsi, ma Cascione e compagni sono pronti a indossare l'armatura e a difendersi con le unghie e con i denti sul campo dei campioni d'Italia. Tra i protagonisti del match contro Perugia l'opposto slovacco Mikhailovic che commenta la vigilia della partita contro Modena. Questa partita contro Modena dobbiamo pensare a quelle cose che abbiamo fatto bene la partita scorsa e quelle che abbiamo fatto male e dobbiamo migliorare. Quindi sarà una partita difficile contro i campioni d'Italia e ci serve giocare molto molto bene per stare competitivi. Sì, ma sicuramente è un po' più facile giocare a casa davanti di questo pubblico che era fantastico. Quindi sarà diverso questa partita contro Modena perché giochiamo fuori casa e dobbiamo dimostrare che ancora sarà più difficile per noi. Un campo difficile è quello di Modena ma che non spaventa i calabresi, sempre a caccia di punti. Non so se tre punti ma dobbiamo fare il nostro migliore gioco e poi si vede perché sono squadre più forti quindi dipende anche da prestazione di loro. Ma noi dobbiamo fare quello migliore che possiamo e poi si vede.